Musica Oggi abbiamo presentato la politica dei visti al servizio del sistema paese. I visti non sono uno strumento burocratico, al contrario possono essere la porta per flussi di turismo, per investimenti, per contatti d'affari verso il nostro paese. E abbiamo presentato la possibilità di avere un visto per affari in solo 48 ore. Questo strumento, questa facilitazione si affianca ad altri strumenti che abbiamo recentemente attivato come il visto per investitori, il visto per start-up, le facilitazioni di visto per chi intende stabilire la residenza fiscale in Italia, insomma tutta una gamma di strumenti per far sì che i visti siano un volano efficace di valorizzazione degli investimenti e delle possibilità di affari nel nostro paese. I visti per le imprese sono quelli che trattiamo di giorno in giorno. Ne abbiamo concessi dal 2014 a oggi circa 640.000, un volume importante considerando anche tutti i controlli che sono dietro i visti per le imprese. Noi valutiamo questo indotto in 30 e più miliardi di euro, che è una cifra veramente importante. Siamo tra i primi, insieme alla Germania, ad aver attivato la cosiddetta e-application, una procedura dematerializzata che permette di richiedere i visti a distanza, con una domanda presentata online, che per adesso è disponibile in italiano e in inglese, ma che stiamo già preparando anche in cinese e in russo. Quindi l'Italia, anche dal punto di vista delle procedure, è all'avanguardia in Europa e non solo per quanto riguarda la politica dei visti. Grazie a tutti.